Però, come mentalità, a livello di fischi, ragazzi, però a San Siro fischiano, eh? A madre di fischi, cioè, se non puoi neanche più prenderti fischi, che è una roba democratica. Però io lo farei a fine... Poi è difficile a fine parere, però non è... Per me non è carino, poi non è la fine del mondo. Il sentiment della gente. Da dire, eh, non sono veri tifosi, eccetera. No, esatto. Calma, momento.